Siete pronti a ricevere un miracolo nella vostra vita? Allora seguite con me questa potente invocazione all'Arcangelo Gamaliel e riceverete immediatamente la vostra benedizione finanziaria. In questo video sorprendente, avrete accesso a una potente preghiera all'Arcangelo Gamaliel, un essere celeste che è responsabile della concessione di miracoli e benedizioni in tutti gli ambiti della vostra vita, in particolare nelle questioni finanziarie. Con il potere della sua influenza sulla prosperità, la ricchezza e il successo, è l'Angelo che può trasformare la vostra vita finanziaria per sempre. Il suo nome significa la ricompensa di Dio. In quanto Angelo Dispensatore di doni, può concedere miracoli e benedizioni a tutti coloro che pregano con grande fede, con grande amore e con estremo rispetto. Preparatevi quindi a sperimentare il potere di questa preghiera e la trasformazione della vostra vita. Sentitevi ora circondati da un'energia sacra e potente, in connessione con l'Arcangelo Gamaliel in una preghiera di trasformazione. Lasciate che il vostro cuore si apra a questa connessione e sentite la fiducia nel vostro essere. Con questa preghiera potete ricevere le grazie urgenti di cui avete disperatamente bisogno, e soprattutto oggi stesso. L'Arcangelo Gamaliel è in grado di esaudire tutte le vostre richieste e di trasformare la vostra vita in modo rapido e significativo. Quindi, permettete a voi stessi di ricevere la benedizione di questo angelo dell'ospitalità e godete dell'abbondanza che può portare nella vostra vita. Credete nel potere di questa connessione e sentite la trasformazione che avviene. Se sei piacciono questi contenuti, lasciate il vostro like e iscrivetevi al canale di Conexau Divina per non perdere nessun nuovo video, e non dimenticate di attivare la campana delle notifiche per rimanere aggiornati su tutte le nostre notizie di trasformazione. 6 Consigliamo di fare questa preghiera tutte le volte che lo ritenete necessario, ma preparatevi a ricevere i frutti di questa bellissima e potente invocazione all'Arcangelo Gamaliel e a sentire l'energia divina fluire nella vostra vita. Per ricevere la benedizione dell'Arcangelo Gamaliel scrivete qui nei commenti. Ricevo la tua benedizione divina, Arcangelo Gamaliel. Trovate ora un luogo tranquillo, dove possiate connettervi con questa potente preghiera. Chiudete gli occhi e respirate profondamente, permettendo alla calma di riempire il vostro essere. Concentratevi sulla presenza dell'Angelo della Grazia Divina, portatore di miracoli e doni inaspettati. In questo momento, con il cuore aperto e pieno di gratitudine, chiedete le sue benedizioni e i suoi miracoli in tutti gli ambiti della vostra vita. Riconoscetelo come un potente protettore e dispensatore di ricompense e doni divini, che concede il suo sostegno e la sua assistenza a tutti coloro che lo meritano. Siate certi che il vostro legame con questo Angelo è forte e che le vostre preghiere saranno ascoltate ed esaudite. Apritevi quindi a ricevere le benedizioni e i miracoli che ha in serbo per voi e sentitevi pieni di pace e fiducia. Siate certi che il Divino Angelo delle benedizioni sarà sempre pronto a rispondere alle vostre preghiere. Oggi chiedete con fiducia e con molta ispirazione, affinché le vostre richieste vengano esaudite immediatamente che la grazia urgente di cui avete disperatamente bisogno possa essere ottenuta e che la vostra vita finanziaria sia abbondante, piena di risorse finanziarie, con molto denaro ed estrema abbondanza. Riconoscete che queste benedizioni sono l'espressione della ricchezza e della protezione che meritate. Sappiamo che l'Arcangelo della ricchezza e della protezione è in grado di concedere tutto questo. Chiedetegli quindi di posare la sua mano su di voi, circondandovi con la sua potente luce sacra mentre seguite il cammino verso l'abbondanza finanziaria. Che le vostre finanze siano controllate con saggezza e intelligenza e che il vostro lavoro sia ricompensato con successo e realizzazione finanziaria. Arcangelo Gamaliel, Spirito Divino e dispensatore di miracoli e benedizioni, concedimi una vita piena di ricompense e di risultati gloriosi. Permettimi di avere la capacità di investire il mio denaro in modo strategico per generare prosperità e abbondanza nella mia vita. Che io possa avere il coraggio e la forza di affrontare tutte le sfide finanziarie che si presentano e che possa essere in grado di trovare soluzioni creative e innovative per superarle. Che io abbia la saggezza e l'intelligenza finanziaria per prendere le decisioni migliori e che la mia vita sia guidata dalla tua luce divina. Confido nella sua capacità di concedere queste grazie e benedizioni. Con il tuo aiuto, so di poter raggiungere il successo finanziario che tanto desidero. Caro Arcangelo Gamaliele, ti ringrazio profondamente per la tua protezione e le tue benedizioni nella mia vita. Sento la tua potente presenza che mi guida sempre e mi protegge nei miei percorsi. So che da questo momento in poi sarai sempre con me, pronto ad assistermi quando chiederò il tuo aiuto e il tuo sostegno divino. Perciò, mi metto ora davanti al tuo altare, invocando la tua gloriosa benevolenza e la tua grazia divina, affinché tu assista alle mie richieste e mi conceda la grazia urgente di cui ho tanto bisogno. Ti chiedo di guidarmi sempre nei miei percorsi, illuminando il mio cammino con la tua saggezza e il tuo amore divino. Che io possa sentire ogni giorno la tua presenza nella mia vita e che ogni mia richiesta sia esaudita con la tua grazia e la tua bontà. Ora sento e visualizzo la tua luce divina che mi avvolge con le tue benedizioni divine per concedermi l'urgente miracolo di cui ho così disperatamente bisogno. Con fede e fiducia, credo fermamente che con il tuo aiuto e la tua protezione potrò ottenere la prosperità e l'abbondanza che desidero nella mia vita e vedere esaudite tutte le mie richieste. Lascia che mi riempia della tua energia divina, sentendola scorrere attraverso di me e guidandomi verso la manifestazione di tutti i miei sogni e desideri. Ti ringrazio per la tua presenza nella mia vita e per la tua costante protezione e guida. Confido pienamente nel tuo potere e nella tua capacità di concedermi questa grazia urgente. Io, indicare il proprio nome, dichiaro e affermo che attraverso il potere di Dio e la potente presenza dell'Arcangelo Gamaliel, e tutte le benedizioni e i miracoli che mi vengono inviati ora, attiro miracoli finanziari nella mia vita. Sento la presenza dell'Arcangelo Gamaliel costantemente intorno a me, che mi guida e mi protegge in ogni momento. Mi lascio riempire dalla sua energia divina e la sento fluire attraverso di me, manifestando abbondanza e protezione in tutti gli ambiti della mia vita. Apro il mio cuore per ricevere le benedizioni e i miracoli finanziari che l'universo ha in servo per me e ringrazio per tutte le grazie che ho già ricevuto e per tutte quelle che devono ancora arrivare. Confido pienamente nel potere dell'Arcangelo Gamaliel e nella sua capacità di guidarmi verso la manifestazione dei miei sogni e desideri. Sono degno e meritevole di un'abbondante protezione finanziaria nella mia vita. Ogni giorno attiro nuove opportunità di successo finanziario, sentendomi riempito dall'energia positiva che scorre verso di me. Sono guidata dall'Angelo Gamaliel in tutte le mie decisioni finanziarie, sentendo la sua presenza potente e amorevole che mi guida a ogni passo. Le mie finanze ora aumentano ogni giorno e sperimento ogni momento più ricchezza e abbondanza nella mia vita. Provo gratitudine per tutte le benedizioni finanziarie che ricevo e uso queste risorse per aiutare gli altri intorno a me, diffondendo amore e compassione nel mondo. Apro il mio cuore per ricevere tutto ciò che l'universo ha in serbo per me e ringrazio per tutte le grazie che ho ricevuto e per tutte quelle che devono ancora arrivare. Confido nel potere dell'Angelo Gamaliel di guidarmi verso la realizzazione dei miei sogni e dei miei desideri e mi sento grata e felice per la vita abbondante che vivo. Sono protetto e incoraggiato dall'Angelo Gamaliel in tutte le mie attività finanziarie. Sono una persona prospera e merito di avere successo finanziario in tutto ciò che faccio. Chiedo all'Angelo Gamaliel, fornitore divino, di essere sempre con me, accompagnandomi e guidandomi nel mio viaggio verso la prosperità e l'abbondanza finanziaria. Sono grato per tutte le benedizioni e i miracoli finanziari che ho ricevuto nella mia vita e apro il mio cuore per ricevere tutte le grazie divine che ha in serbo per me. Angelo della grazia divina, chiedo la guarigione in tutti gli ambiti della mia vita, concedendomi le benedizioni dell'abbondanza di Dio nella mia vita. So che è mio diritto di nascita divino sperimentare l'abbondanza in tutte le sue forme, in amore, gioia, felicità, salute, ricchezza e realizzazione personale. Credo fermamente nel potere dell'Angelo Gamaliel di aiutarmi a raggiungere la vita abbondante che merito, e mi sento grata per tutte le benedizioni che ho già ricevuto e per tutte quelle che devono ancora arrivare. Sacro Angelo Divino Gamaliel, onoriamo la tua potente presenza qui e ora. Ti preghiamo di accogliere tutte le nostre richieste e di concederci i miracoli di cui abbiamo bisogno per continuare il nostro cammino con pienezza e successo. Abbiamo fede e certezza che la nostra preghiera è stata ascoltata ed esaudita e che riceveremo al più presto la grazia che tanto cerchiamo. Ti chiediamo di esaudire le nostre richieste oggi, affinché possiamo sentire i risultati della tua benedizione in tutti gli ambiti della nostra vita. Che sia così. Amen. Fate un respiro profondo, aprite gli occhi e ringraziate per questo momento sacro. Unisciti a noi in questo viaggio di crescita e aiuta questa potente preghiera a raggiungere più persone. Condividete questo video con i vostri amici e familiari affinché tutti possano ricevere le benedizioni dell'Arcangelo Gamaliel. Non dimenticate di iscrivervi al canale, di lasciare il vostro like e di premere la campanella di notifica per ricevere tutte le novità in prima persona e non perdere nessun video. Il vostro aiuto è fondamentale per la nostra crescita e siamo grati di avervi con noi in questo viaggio di luce e protezione. Unitevi a noi e diffondete questo messaggio di amore e gratitudine in tutto il mondo.